Ragazzi è tutto pronto, si decide tutto ai rigori, la partita è finita 1-1 ma questo europeo si deciderà ai rigori, mamma mia che preoccupazione, mamma mia che ansia, sono qui con Andre, sono con Inter per sempre dall'altra parte che sono collegati telematicamente, dai, speriamo bene, speriamo che tutto vada bene, l'Italia non è partita bene ma ha saputo reagire, ha saputo riprendersi, speriamo di vincere ai rigori, siamo già passati con la Spagna, speriamo vada bene, se avessi beccato a Germania tiravo veramente no ieri per cui, tutto pronto chi comincia? Cominciano loro mi sa, ti partiamo loro? Pensate che io ho ansia quando lo tiro con l'intorno a nessuno, questa tira sulla testa e c'è Berardi, no iniziamo noi, Berardi, Berardi dal dischetto, il primo è Berardi, stiamo morendo di crepa cuore, tutto pronto Ho fatto un po' già fissiato? E perché è che è sultaggiato? questo è che l'ho visto uno già muoversi Vicky Forte, com'è a parare il rigore? ti metti la dentro, Mimmo però non so mai dire mai il problema è che mai il rigore è interno all'otto come? sì! spiazzato sì che bravo sì, spiazzato, bravo Mimmo figlio di Troia figlio di Troia ben rigore, ben rigore fai la una parte e il portiere dall'altra il primo è dentro Kane centravanti inglese che oggi è stato ben controllato dalla nostra retroguardia Henry, Gigio dai, buttalo fuori dai Gigio, paraglielo ipnotizzalo fai l'usso parte Kane lo tira fuori c'era quasi arrivato peccato peccato tira bene a destra peccato peccato in più peccato tira bene a destra Belotti 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 dai Gallo mettila dentro come hai fatto con la Spagna dai dai Gallo mamma ragazzi poi c'è il pronuncio per berla guarda che siamo qui ma noi raga è meglio essere qui ricorsa lunga Gallo forza mira dai Gallo guarda forza mira perdiamo guarda parte il Gallo Prendi guarda vai Gigio vai Gigio vai Gigio vai Gigio vai Gigio vai Gigio si 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 anzi è trattato la volta di merda Inghilterra ha la possibilità di passare in vantaggio dal dischetto, va Megair, dai Gigio, fai il miracolo. Gregorio è meglio. Dai Gigio. Megair è rigorista. Non lo so, però... Questo ha avuto un po'. Che sai, Gigio? Rashford, di percare, è rigorista. Dai, possiamo guardare. No, sì. C'è un gol ricadente. Megair. Faccia Gigio a marcia d'arte. Vai, va Megair. Inghilterra. Finistra. Gol. Minchia, che gol. Però sai che tensione c'è da su quando lo tiri, Zio? Tu tira? Borrucci? Borrucci. Tirato benissimo, la bomba. Ti ha preso la nuova camera, per esempio. La secondata. Minchia, però era stato così, da te che era là. Ti dimentichi da quel cazzo di dinticiaposci, sembra che era? Borrucci. Nero. Ma come lo guarda? Ma come lo guarda? Ma come lo guarda? Ma sono, hai rispetto? Trovo che c'è un più un oro, ragazzi. Perché trovo la maledetta costarda. Vi insegnare la persona, sai? Vai, Leo, tienici in vita. Ma per caso. Sì. Sì. Ma mamma mia, mamma mia, mamma mia. Teci, 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 teci. Sì. La segna. La messa dentro. Mari. Si è piagata al gol, perché si è fermato. Ero. Ero. Si è gol, gol. Ero. 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 Palo, 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 palo. 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 Chi è? Salto palo. Salto palo. Palo, l'ho detto. Poi sbagliare. Poi sbagliare. L'ho detto che eri entrato solo per sbagliare. Chi va ora? Doca? Berna. no bernardeschi bernardeschi zio cane caga perché angolerà a sinistra dai però fai gol come cazzo ti chiami attraverso gol bravo bella due ricordi due gol bravo centrale di merda però la messa dentro l'ultimo parola il tuo scavetto se sbagliano verso sancio panso dai e 2002 non è belli che è pure 2003 rara scuola segna no vai ciccio 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 giorgio giorgio come con la spagna con ci cantare giorginio gioigi giorgi 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 chiamata stavano gorgi c'è un ragazzo non è che cazzo ragazzo l'ansia la donna che ansia giorgi non sono cinque secondi che valgono cinque secoli ci abbracciavano saltino no no parato un palo parato sul palo starda di merda muttana bastarda perché non l'ha tirato sul palo non aveva forse cose una bella parata porca la troia parata ma si butta sempre la parte giusta comunque questo video di puttana oh no parate sul palo ti sbaglia a perdere? no se fanno questo pari già ma si si sbaglia siamo campioni d'europa campioni d'europa siamo campioni d'europa campioni d'europa siamo campioni d'europa campioni d'europa si berfi d'albione si 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 siamo campioni d'europa si andiamo in piazza andiamo in piazza Grazie.